Vi presento Olga, lei si allenerà con noi per le gare. Come sono le Svizzere? Come mai non conosco tua madre? Abita lontano. Non rispondi mai quando ti chiamo. So che sei in pericolo. È una persona irresponsabile. Sta facendo il suo lavoro. Non sei pronta per il Jager, ti farai male alla schiena. Ho bisogno del Jager per gli europei. Non mi servono i tuoi consigli. Come? Olga, io vivo qui ogni giorno. È orribile. Questo è sport, lo capisci? Non è politico. Sai che vorrei essere lì accanto a te. Rio, Craig! Pensi che sia la soluzione migliore per aiutare il tuo paese? Noi! Grazie.